Pietro Masotti, con chi è fidanzato l'attore? Pietro Masotti è uno dei volti più noti del Paradiso delle Signore. Infatti è lui ad interpretare il ruolo di Marcello Barbieri, sicuramente uno dei grandi protagonisti della SOP. Nato nel 1986, in tanti si chiedono chi sia la sua fidanzata. Infatti, Masotti è piuttosto riservato sulla sua vita privata e solo poche volte ha parlato della sua dolce metà e della storia d'amore con lei. Originario di Rutigliano, in provincia di Bari, l'attore avrebbe una relazione ormai da molti anni con una ragazza che non condivide le sue stesse origini. La sua fidanzata si chiama Marta e non fa parte del mondo dello spettacolo o della recitazione. Infatti, nella vita fa il medico e la sua professione la porta a rimanere in Sicilia. Non si sa altro di lei, e soltanto raramente sono trapelate delle foto di Masotti che lo mostrano in compagnia della sua fidanzata. Ad esempio ci sono delle foto in cui i due sono insieme fuori a cena. Questa relazione confermata dallo stesso attore smentisce tutte le voci circolate nel corso degli anni, secondo cui aveva avuto delle relazioni sul set con le altre attrici protagoniste dei Paradiso delle Signore. Per lungo tempo l'attore non ha confermato la relazione con la sua Marta, ma ora l'ha fatto. Nello studio della Volta Buona, Pietro Masotti ha avuto modo di parlare della sua relazione, confermando i rumors sul suo fidanzamento. Infatti ha confermato che la sua dolce metà è un medico e si chiama Marta. Masotti ha detto che la ragazza continua a lavorare in Sicilia mentre lui deve stare a Roma per motivi professionali. Per il momento quindi portano avanti una relazione a distanza, anche se approfittano di tutte le occasioni per stare insieme. L'obiettivo dell'attore, come ha dichiarato, è quello di ricongiungersi alla sua fidanzata e vivere presto insieme. Infatti, vuole mettere su famiglia e avere dei figli da Marta. Quindi la loro relazione è molto seria, va avanti da anni e sono felici insieme. Pietro Masotti non ha dato altri dettagli, sia perché ha sempre dimostrato di essere molto riservato, sia perché la sua fidanzata non appartiene al mondo dello spettacolo e per questo motivo probabilmente non intende mettersi sotto i riflettori. Forse in futuro ci saranno notizie soprattutto se i due dovessero sposarsi o avere figli. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Pietro Masotti e sapevate questi dettagli sulla sua vita privata e sulla sua fidanzata? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie! Grazie a tutti! Grazie.